Ciao ragazzi, sono Martino del GGFS e questo è il gioco di oggi. Tista, arriva la pallina. Prima di andare a creare la nostra tista dobbiamo costruire la nostra pallina. Di che cosa abbiamo bisogno? Di fogli, di carta o giornale e del nastro adesivo. Adesso prendiamo i nostri fogli di carta e li andiamo a pallottolare. Pallottoliamo bene bene e adesso prendiamo il nastro adesivo e andiamo a unire il tutto. Ecco qua la nostra pallina di carta. E adesso andiamo a creare la nostra tista. Potete sbizzarrirvi con la vostra fantasia, con tutto quello che avete in casa. Io ad esempio ho preso tre bottiglie d'acqua, delle riviste, un cestino, una paletta ed una scopa. E adesso vado a creare il percorso che ho immaginato. Prendo le mie bottiglie d'acqua e le vado a posizionare tenendole distanti tra di loro. Dopodiché posiziono la scopa alla fine delle bottiglie dell'acqua, la paletta, il cestino lo posiziono qui in fondo e tra la paletta ed il cestino ecco che vado a posizionare le mie riviste. E adesso con la pallina di carta che abbiamo creato prima provo a palleggiare con la mano destra facendo lo stall tra le bottiglie d'acqua. Dopodiché posiziono la pallina in terra, proletto la scopa e provo a fare gol. Poi prendo la pallina con i piedi e provo a saltare tra le due viste. Dopodiché prendo la pallina in mano e faccio canestro. Game Open TCP e adesso inventa tu.